Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. In A11 ci sono code in uscita a Lucca Est provenendo da Firenze a causa del Lucca Comics. In A1 fare attenzione per nebbia banchi tra Rioveggio e Aglio. Sulla Fipili segnalata a pioggia tra Ginestra, Fiorentina e Livorno Centro. Sulla Statale 1 Aurelia scambio di carreggiata per lavori tra Fonte Blanda e Montiano in direzione Grosseto. In A11 l'area di servizio di Peretola Nord in direzione Pisa al Camper Service chiuso per un guasto. A Firenze per i lavori della tramvia in via di Novoli restringimento di carreggiata tra via Torre degli Agli e via Tagliaferri. Buorsi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!